La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ha preso il via così con la lettura dell'articolo 4 della Costituzione italiana e il nuovo incontro promosso dall'iniziativa Evviva la Costituzione promossa dall'Associazione Paolo Masullo e dalla comunità Labbraccio con l'obiettivo di diffondere tra gli studenti salernitani la conoscenza dei primi 12 articoli della Costituzione. Nell'ambito del ciclo di appuntamenti moderati da Edoardo Scotti, oggi c'è stata tappa all'interno dell'Istituto Profragri in Via delle Calabrie dove è stato affrontato l'articolo 4, quello dedicato al lavoro con la presenza del sociologo Rino Avallone e dell'imprenditore Nicola Nicodemo che si sono soffermati con gli studenti collegati anche in remoto dalle altre sedi del Profragri, la scuola diretta da Carmela Sant'Arcangelo sugli aspetti legati al mondo del lavoro visti però da diversi punti di vista. Si è parlato quindi di formazione, di dignità e anche della necessità di non vivere il lavoro come un sacrificio ma come un'opportunità di crescita e realizzazione personale. Riprendendo il tema dell'articolo 4, le persone hanno il diritto al lavoro, al tempo stesso sono richiamate dalla Costituzione a partecipare al benessere sociale che quindi non vuol dire solo un benessere economico ma vuol dire il benessere della collettività. In questo nella mia interpretazione rientra anche il lavoro domestico, anche il lavoro che non viene remunerato anche se questo non è presente all'interno della Costituzione ed è un elemento ovviamente critico. La Costituzione rinvia non solo al tema del diritto al lavoro ma anche a quello della dignità del lavoro che nel mondo di oggi significa politiche che ne riducano la precarietà che è evidentemente troppo diffusa come molte persone esperimentano nella loro esistenza, in molti casi anche per periodi molto lunghi. Il messaggio che deve arrivare ai ragazzi rispetto al tema del lavoro è all'articolo 4 della Costituzione. Il messaggio è un messaggio molto semplice, quello di dover prendere la vita capendo che il lavoro è parte integrante della stessa quindi di conseguenza qualsiasi attività i ragazzi decidano di fare un domani devono capire l'importanza del lavoro e di tutte quante le sue sfaccettature. Nello specifico qui parliamo con dei ragazzi che si occupano di un settore molto complicato che è quello dell'agricoltura e cercherò per quanto possibile di far capire un po' i pro e i contro di questa attività che è una delle più storiche di sempre. Qual è secondo lei l'idea più sbagliata che i ragazzi di oggi hanno in merito al lavoro? Beh i ragazzi oggi hanno un'idea sbagliata fondamentalmente del lavoro perché vedono il lavoro come una privazione, vedono il lavoro non come un'opportunità, non come la possibilità di alzarsi tutte le mattine e fare qualche cosa di buono per loro e per la società.